Domenica 26 maggio è utile andare a votare per costruire davvero un'Europa fondata sui diritti, sulla giustizia sociale e sul lavoro. Per fare questo ci vuole un'Europa unita, non bisogna dividere l'Europa, non servono le piccole patrie, serve un'Europa fondata sul lavoro, sui diritti, sul lavoro e sulla giustizia sociale. Vai a votare e vota per un'Europa unita e un'Europa democratica.